Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video facciamo il punto della situazione per quanto riguarda i pagamenti di marzo 2022, nello specifico della seconda metà del mese. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Partiamo con reddito e pensioni di cittadinanza. Per il mese di marzo, coloro che già ricevono il reddito e pensioni di cittadinanza avranno l'erogazione del sussidio a partire da venerdì 25 marzo. Al contrario invece chi ha presentato domanda di reddito entro il 28 febbraio 2022 beneficerà della prima rata della prestazione a partire da martedì 15 marzo. Passiamo poi al pagamento della NASP e di SCOL. Per il mese di marzo i pagamenti provenienti dall'Inps interesseranno un arco temporale che va da martedì 8 a martedì 15 a seconda del singolo beneficiario. Dunque i pagamenti saranno spalmati nell'arco temporale di una settimana. Passiamo poi invece all'assegno unico. Per quanto riguarda le competenze di gennaio e febbraio i pagamenti dovrebbero arrivare dalla seconda metà di marzo. Invece il discorso è diverso per chi presenterà le istanze dal primo marzo in poi e in tal caso il pagamento avverrà al termine del mese successivo, quello di trasmissione della domanda. Passiamo poi all'assegno temporaneo per figli minori che è destinato ad essere sostituito dall'assegno unico universale a partire dal primo marzo. L'assegno temporaneo sarà corrisposto nell'ultima tranche ovvero quella in riferimento di febbraio 2022 a partire da giovedì 10 marzo. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.